il femminismo ha vinto o è stato fatto vincere? proviamo a rispondere a questa domanda per me è stato fatto vincere però voglio argomentarvi voglio spiegarvi il perché poi mi farete sapere anche la vostra qui nei commenti proviamo ad affrontare questo tema con la consueta razionalità e coerenza e cercando di fare dei ragionamenti solidi facciamo un attimo un passo indietro quando è che il femminismo si è iniziato ad affermare realmente? negli anni 60 del secolo scorso però prima di allora i movimenti femministi già c'erano si stavano pian piano consolidando sempre di più si stavano affermando stavano prendendo il loro spazio ma non c'era stata ancora ancora la reale occasione di prendere piede di affermarsi dal punto di vista ideologico sociale per rivendicare poi tutti quei diritti e doveri che le donne da molto tempo volevano ma essenzialmente è giusto che le donne volevano questi diritti assolutamente dal mio punto di vista sì è giusto che a un certo punto le donne abbiano sentito questo bisogno soprattutto sul piano sociale della dignità sociale perché uomini e donne sul piano umano sono meritevoli degli stessi diritti doveri non esistono esseri umani di serie a e serie b ok quindi chi la pensa diversamente mi dispiace non è proprio questa la mia idea ma il punto non è questo dobbiamo capire che poi il femminismo è degenerato sappiamo che cosa è degenerato dove in realtà non è più un movimento per la parità di genere ma sappiamo bene che sembra più che altro un movimento per la supremazia femminile anzi loro quasi possono dire buttare merda sui uomini e anzi anche a ben accorto noi abbiamo visto anche in italia con alcuni esempi come valeria fonte che si tatua la scritta misandrica sulla sull'inguine ed è tutto ok insomma non è capiamo bene che il contesto ideologico attuale è molto diverso c'è chi scrive un libro odio gli uomini c'è chi butta merda sul genere maschile insomma e va bene così però non ci dilunghiamo troppo su questi discorsi cerchiamo di argomentare più che altro la risposta alla domanda iniziale che cosa è successo ad un certo punto che come ben sappiamo le ideologie quant'è che si affermano realmente quando incontrano gli interessi politici ideologici sociali di una classe dominante coloro che effettivamente hanno il potere non dobbiamo pensare a un insieme di individui nello specifico ma al contesto politico ed economico nella sua complessità dobbiamo pensare che negli anni 60 c'è stato un forte boom economico stiamo parlando degli anni del dopoguerra e stiamo parlando di anni che dopo la seconda guerra mondiale anche durante il periodo della seconda guerra mondiale molte molti uomini erano in guerra effettivamente poi alle donne è passato anche il compito di lavorare anche nelle fabbriche insomma si era creato un contesto dove si era visto effettivamente che il lavoro femminile poteva portare insomma dei guadagni poteva effettivamente aumentare la produttività insomma il fatto che le donne volessero in qualche modo far parte del grande tritacarne sociale dove effettivamente insomma contribuiscono alla produttività era qualcosa che faceva comodo alla società quindi dobbiamo pensare che ad un certo punto il fatto che le donne volessero in qualche modo essere inserite anche loro nel mondo del lavoro nella società nel meccanismo di produzione di servizi era qualcosa che a un certo punto faceva comodo e ovviamente il concetto anche di famiglia poteva in qualche modo essere fino a quel momento anche un po' un ostacolo perché insomma la famiglia fino a quel tempo era formata da insomma il breadwinner il padre che portava insomma una pagnotta a casa la donna che si preoccupava della propria prole e i figli insomma questa era la struttura ma la classica famiglia di stampo diciamo così patriarcale come loro dicono le femministe come spesso si intende in realtà era una famiglia che doveva essere diciamo in quel modo perché il contesto sociale di quel tempo prima parliamo ecco pre anni sessanta e in qualche modo quei uomini di genere come lo sono stati da molti anni da secoli da millenni era necessario che fossero sempre in quel modo perché anche i lavori domestici non erano mica semplici come quelli di oggi non c'erano lavatrici che ne so il detersivo non c'era non si poteva lavare a terra magari col mocio cosa del c'è capiamo bene che era un contesto completamente diverso quindi fare i servizi in casa i lavori domestici era veramente un lavoro era un lavoro a tutti gli effetti e quindi la famiglia standard era settata in questo modo era settata che un uomo con il suo reddito poteva portare avanti la propria famiglia e va bene così non allora dobbiamo capire che la società tende a mantenere ad uno stato di sopravvivenza le persone diciamo che fanno parte della classe medio bassa media e medio alta nel senso c'è un range per cui in quel range si setta più o meno il reddito medio no di delle persone questo ovviamente per poi effettivamente chi fa parte di una di un livello gerarchico più alto sono quelli che effettivamente poi traggono i frutti di questa disparità nel senso loro poi guadagnando dieci volte tanto 30 volte 100 volte tanto effettivamente possono fare una vita molto più dignitosa rispetto a quella che è la media però qual è lo standard a quei tempi lo standard era appunto il reddito di una sola persona cos'è accaduto che effettivamente si è visto che con il lavoro femminile allora l'entrata effettivamente c'è la produttività è aumentata perché non c'era più solo l'uomo che lavorava ma anche effettivamente la donna ma guarda un po guarda il caso è una società che all'improvviso ha bisogno delle donne ma è una società che effettivamente ha detto ah bene adesso le donne vogliono questo vogliono essere equiparate agli uomini a noi conviene? sì che conviene conviene perché interessi politici ed economici erano a vantaggio di questa ideologia quindi dobbiamo capire che le ideologie vengono promosse solo nel momento in cui sono allineate agli interessi delle classi dominanti in questo caso che il femminismo è stato in qualche modo agevolato sul piano culturale sociale perché andava incontro a queste nuove necessità quindi non si può dire che abbiano lottato e poi si siano affermate le femministe non è propriamente corretto è più una concessione strumentalizzata da parte delle classi dominanti che effettivamente hanno trovato di loro interesse dare spazio ai movimenti femministi ma chi sono questi soggetti? chi vuole realmente detenere il potere? innanzitutto chi detiene il potere? detiene il potere chi ha grandi capitali i politici sicuramente hanno una loro influenza però possiamo pensare che tutti quei grandi fondi di investimento o persone di un certo peso con una certa influenza sociale con capitali miliardari alle spalle non abbiano degli interessi sicuramente i capitalisti di quel livello avevano più di un motivo per volere maggiore produttività all'interno dell'economia dell'Occidente avevano sicuramente più interesse che un movimento come quello femminista in qualche modo si affermasse e quindi vai di finanze vai di finanziamenti hanno creato in qualche modo il sentiero per portare il movimento femminista l'ideologia femminista ad affermarsi non è che è stato qualcosa di così palese diretto dobbiamo pensare qualcosa di così esplicito ma forse neanche di così organizzato cioè mi spiego non è che si sono messi a tavolino come magari possiamo immaginare gli illuminati hanno deciso questa cosa è semplicemente un'intersezione di interessi un'incontrarsi così tanti interessi favorevoli gli interessi degli uni degli altri che hanno fatto sì che questi interessi si incrociassero ad un certo punto e quindi tutto è andato in modo molto naturale così come doveva andare ecco è questo che io credo essenzialmente credo che effettivamente non dobbiamo pensare alla classica scena come posso dire come ho detto da illuminati che stanno magari seduti intorno a un tavolo o per carità poi magari è stato così però non è quello dobbiamo pensare anche all'idea che è stato possibile qualcosa del genere semplicemente perché si sono incrociati più interessi questo è forza che questo sia un bene sia un male cosa penso io ovviamente la società doveva in qualche modo cambiare è giusto che le donne al giorno d'oggi abbiano la possibilità di intraprendere una carriera al pari di un uomo a volte purtroppo sono anche più agevolate e quindi la disparità del genere adesso si è in qualche modo invertita l'abbiamo visto come università che elargiscono come incentivi come se non ci fossero domani verso il genere femminile mentre penalizzano quello maschile ma questo è un altro discorso ok però in linea generale le donne è giusto che abbiano le stesse possibilità di un uomo quindi la mia non è un'analisi ok perché so che ci sono quei tre quattro hater ignoranti all'ascolto che non capiscono un cazzo di quello che sto dicendo però essenzialmente il discorso qua e voi che magari mi seguite da molto tempo io vi ringrazio perché grazie al vostro supporto che mi dà della spinta di andare avanti grazie ai vostri commenti e voi capite cosa sto parlando perché perché noi ragioniamo ok questo è il punto stiamo provando a ragionare stiamo provando a sollevare dei quesiti a dare delle risposte a fare delle ipotesi allora purtroppo questi tipi di ragionamenti non è che li trovate in giro molto facilmente perché ancora una volta siamo all'interno di un contesto sociale dove si si parla di certe cose insomma sono argomenti scomodi quindi vengono un po' disincentivati non se ne parla e si tende un po' ad evitare anche un discorso infatti anche chi talvolta ci mette la faccia tende insomma a non a non toccare certi argomenti perché siamo in una società dove c'è il rischio no della siamo nella società della cancel culture quello quindi in qualche modo se tu fai parte poi di un certo insieme di persone che la pensano in un modo allora poi vieni ostracizzato stigmatizzato quello che più che altro qui è non fare il solito ragionamento come purtroppo si vede all'interno della menosfera in alcuni ambienti di red pill che in realtà di red pill non hanno nulla dove si ragionano pure il culo cerchiamo invece di usare la testa ecco tornando a noi il punto è proprio questo il contesto sociale di quegli anni era favorevole era favorevole per l'ascisa del femminismo poi cos'è accaduto è accaduto che in realtà il fatto che il femminismo abbia sempre preso piede che poi tutte le derive ideologiche che stiamo assistendo al giorno d'oggi siano sempre più forti in qualche modo anche se ok non è la maggioranza ok ci sono degli estremismi che non fanno parte della maggioranza però abbiamo visto come hanno impatto sul piano culturale lo vediamo anche con i prodotti di intrattenimento che subiscono molto queste influenze dei movimenti woke come mai si tende magari a spingere certe cose sul piano ideologico anche a svantaggio degli stessi introiti ma questo è un altro discorso ok è giusto stiamo facendo delle domande anche per arrivare a fare delle riflessioni adesso certe derive sono ancora più potenti ma viviamo in una società dove effettivamente l'uomo è stato poi atomizzato noi abbiamo anche fatica facciamo fatica a unirci tra noi uomini facciamo fatica a costruire dei collettivi sempre più uomini rispetto alle donne si suicidano e poi ecco molte statistiche dicono che le donne sono più propense alla depressione rispetto agli uomini ma anche questa potrebbe essere una statistica non del tutto vera perché molti uomini potrebbero in realtà non essere diagnosticati come depressi mentre le donne magari che tendono magari ad essere più propense a ricevere l'aiuto un aiuto psicologico e a manifestare certe cose certi problemi si tende a credere che più le donne siano depresse rispetto agli uomini ma questa può non essere una statistica del tutto vera e lo dimostra un po' i suicidi perché ecco c'è una sorta di discrepanza ci sono più suicidi maschili ma più donne depresse qualcosa sembra non tornare però ecco questo è sempre un video che sto facendo così di flusso raga quindi tanti argomenti andrebbero approfonditi in dettaglio più un ragionamento che sto facendo qui con voi purtroppo ci sarebbe tanto da dire su questo ci sono tantissimi quesiti ancora a cui dare una risposta tantissime recuperazioni analisi che girano qui nella mia testa e dovrei stare qui a parlare per ore raga veramente vi farei una testa così sinceramente adesso non vi voglio rubare altro tempo anzi vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo momento se avete visto il video fino a questo momento mettete l'emoticon del rinoceronte e noi ci vediamo in un prossimo video ciao raga